siamo al salone nautico di venezia in arsenale a bordo del catamarano lion della società ve lion siamo qui con federico zecchini che è ideatore del progetto e che ci racconta le meraviglie di questa barca questo catamarano è velocissimo corre fino a 25 nodi costruito da un gruppo di amici esperti e professionisti di altura velocità è un catamarano sicuro però con prestazioni ottimali 25 nodi la velocità carbonio fibra di vetro mescolate 70 per cento carbonio medicina abbiamo siamo a bordo del magellano 25 m una delle barche più importanti presenti al salone nautico del gruppo azimut stiamo entrando nel soggiorno molta attenzione per questa barca è stata data alle vetrate alla luce la barca è lunga 25 metri e 4 cabine e raggiunge una velocità di 24 nodi al salone nautico di venezia in arsenale c'è anche questo bolide del mare che si chiama race bird è una barca da competizione per campionato e 1 è lunga 7 metri e mezzo a un motore elettrico fuori bordo che consente di raggiungere i 50 nodi e pesa soltanto 800 kg non non Grazie a tutti